Mi chiamo Massimiliano Pavan, ho 41 anni, sono delegato nell'azienda Network Contacts di Concorrezza, un call center in outsourcing. Ci occupiamo di servizi alle aziende in appalto, quindi i nostri clienti e i committenti sono prevalentemente in ambito bancario e finanziario. Faccio delegato per effetto di un passaggio, ho avuto una clausa sociale, vengo da Milano. Grazie alle lotte proprio del sindacato ho potuto mantenere il mio posto di lavoro e trasferire il mio concorrezzo. Da lì ho iniziato a sindacalizzare questa azienda e a far crescere un gruppo di persone con delle giuste idee. La mia prima testa sindacato risale al 2008, c'era già il sindacato in azienda in realtà, ma non la CGL, c'era un altro sindacato e l'idea di fare un sindacato migliore e diverso mi ha portato poi a tante altre prime tessere di colleghi, lavoratori e poi anche nella vita privata ad amici. Il mio lavoro quotidiano per aiutare le lavoratrici e i lavoratori che sono in azienda è quello di fornire una continua informazione su quello che accade sia in azienda ma anche nel mondo esterno. Quello che faccio poi nel concreto sono operazioni quotidiane, possono essere aiutare a trovare il giusto turno quando c'è troppa pressione operativa, trovare soluzioni con l'azienda per migliorare le condizioni di tutti noi lavoratori. Se devo pensare al momento che ha cambiato, che mi ha emozionato e ha cambiato il modo di vedere la nostra attività sindacale, è stato quando i miei colleghi, quando per la prima volta ho firmato un accordo di clausso sociale, cioè di passaggio a parità di condizioni da un'azienda a un'altra, perché l'appaltatore ha cambiato fornitore fondamentalmente. Questo è un momento decisivo perché fino al momento prima quando perdevamo un appalto dovevo salutare i colleghi che lasciavano l'azienda e da quel momento in poi invece i colleghi ho iniziato a salutarli non perché lasciavano l'azienda, ma perché ogni giorno erano a lavorare di nuovo con me nella nuova azienda. Quello che apprezzo particolarmente della CGL è che sia un'organizzazione fatta di donne e di uomini che lavorano o che hanno lavorato, anche se non lavorano più. Quindi le categorie, i pensionati, tutti questi pezzi stanno tutti quanti insieme. Questo ci permette di analizzare quello che succede oggi senza dimenticarci quello che è successo nel passato e come è stato affrontato. Per me fare parte di un'organizzazione come la CGL è la vita praticamente. Vuol dire realizzare tutto il bene che penso e poterlo mettere in pratica ogni giorno sul luogo di lavoro e nella nostra camera del lavoro. Grazie a tutti.